Che cosa vi ha spinto ad entrare nel gruppo delle famiglie affidatarie? Perché proprio l'affido in sé ha secondo noi questa componente di soluzione di un problema reale. Un bambino che è in difficoltà deve essere in qualche modo aiutato. Aiutato a riprendere determinati meccanismi che per noi sono molto semplici e naturali perché siamo tutti nati in famiglie tranquille, ma quando questa famiglia tranquilla non c'è potremmo creare un bambino che diventerà un adulto estremamente problematico. Interrompere questo processo salva veramente la vita a questo bambino. Che cosa distingue secondo lei principalmente l'attitudine della famiglia affidataria rispetto all'attitudine della famiglia adottiva? Sì, la famiglia adottiva ha una necessità, ha un proprio problema, diciamo, che è quello di avere un bambino. E quindi il suo scopo è di diventare genitore. Famiglie, diciamo, adottive splendide che chiaramente porteranno del bene a dei bambini che in questo momento non ne hanno, ma il primo istinto nasce dal fatto di volere essere genitori. Normalmente le famiglie invece affidatarie sono già genitori e invece il loro scopo è tutto concentrato sul bambino. E' questo bambino che noi dobbiamo rimettere in carreggiata, spesso anche per un periodo, un anno, due anni, tre anni, quando il bambino è ritornato a conoscere i meccanismi può ritornare in una famiglia che sarà quella definitiva. Le famiglie affidatarie fanno un percorso, prima diciamo di essere accolte all'interno del gruppo, con gli assistenti sociali. Il rapporto con gli assistenti sociali durante il percorso e dopo, durante l'affido? Sì, gli assistenti sociali chiaramente definiscono la relazione fra la famiglia affidataria, il bambino e la famiglia, diciamo, che l'ha generato. Anche perché noi non conosciamo molto di quello, cioè oggettivamente non ci mettono al corrente se la famiglia, per esempio, ha usato violenza, cose di questo genere. Noi accettiamo questo figlio e cerchiamo di, come dico, strutturarlo al meglio. E' chiaro che ci sono assistenti che hanno la vista più lunga, ci sono assistenti molto più capaci, ma in generale, devo dire, qui a Ferrara noi abbiamo trovato tutte persone molto in gamba. E anche chi sta sopra di loro, cioè i propri servizi sociali, hanno sempre fatto degli abbinamenti accurati, diciamo. Io personalmente dico sempre che bisogna fidarsi. E' inutile che incominciamo a pensare noi di avere la verità in tasca. Noi facciamo la nostra parte di genitori, poi ci sono persone che hanno studiato, che sono i psicologi e gli assistenti, affidiamoci a loro.